Grazie veramente a quelli che hanno fatto il torneo e che hanno partecipato al torneo e soprattutto a voi che siete qui a collaborare per questa serata che chiaramente è bellissimo per il calcio, per tutto non andrà in beneficenza delle persone che chiaramente hanno più bisogno di noi. Ecco, una cosa importante, volevo ringraziare il sindaco Giovanni Ghislandi, gli assessori di Comune, Ambrosio Valtolina e Walter Cogliatti che sono venuti qui per noi per le premiazioni questa sera, poi chiaramente tutti i miei volontari che ci danno una mano a lavorare per due settimane e per me di fare questo libretto per poter riuscire a dare qualcosa in beneficenza che è la cosa più importante. Ecco, grazie ancora a tutti di essere qua questa serata e buon divertimento a tutti. Volevo lasciare la parola a Giovanni, sindaco Ghislandi che magari vorrà dire qualcosa per ringraziare. Grazie Valentino, solo un cordiale ringraziamento a te, a tutti voi, a direttivo, all'Interclub Angel Moratti e un grosso ringraziamento ai comunitari che si sono impegnati e che hanno reso possibile per l'iniziativa sportiva, per l'iniziativa sportiva, per l'efficienza, insomma avanti così e aspettiamo l'anno prossimo. Grazie.